Uno, due, tre, vai! Taglio del nastro del Castiglioni Film Festival, manifestazione cinematografica diretta da Romeo Conte. Il festival è ospitato dalla Torre del Cassero e dal Teatro Comunale Mario Spina sino al 18 luglio. Quest'anno abbiamo voluto festeggiare davvero il cinema, perché una cosa è una proiezione che può lasciare un po' il tempo che trova, altro è invece far vedere cosa ci sta davvero, cos'è questo mondo del cinema e rendiamo onore a quest'arte. Ad anticipare il festival un appuntamento d'eccezione presso la sala espositiva del sottotetto del Teatro Spina, la mostra dal titolo I mestieri del cinema, un lungo viaggio nel cinema italiano che celebra la coppia d'oro composta dallo scenografo Lorenzo Baraldi e dalla costumista Gianna Gissi. Di fatto è il cinema che noi in piena estate vogliamo celebrare e lo facciamo da questo luogo magico che è il sottotetto del Teatro Spina, facendo vedere una retrospettiva del cinema che non tutti conoscono a partire da me. Ora pensare che questi sono i bozzetti con i quali sono state poi costruite tutte le scenografie di film che sono diventati film epici, che hanno fatto la storia dal Marchese del Grillo fino al Postino, qui c'è veramente un estratto di quella che è stata anche la fantasia e la creatività della cinematografia italiana. Poi spazio ad un calendario ricco di proiezioni, appuntamenti e con un parterre d'ospiti ricchissimo. A Castiglion Fiorentino saranno infatti presenti registi e sceneggiatori d'eccezione. Siamo arrivati ad una grande e soddisfacente attenzione di pubblico e quindi vorremmo che questa attenzione non abbandonasse nemmeno chi ci segue.